Incora qui, Zevig! Bene, abbiamo adesso un trio, subito partiamo con una grande comicità, sono tre ragazzi, uno viene d'altro. Buuuuuh! Didier Albertino, grande modello, ti scrivo! Spettacolo! Lo sapevo che ti trovavo qua al Gilex, Mattello, stasera! Allora? Al Gilex, qua! Hai entrato, l'ha visto all'incontrario, è lo Zelig, non è il Gilex! Che ormai io sono di casa qua al Gilex, Mattello! Al Gilex, eh! Gilex! Mi dovreste dare la tessera VIP! Al Gilex! Io ce l'ho tutte, oh! C'ho anche quella dell'amnesia! L'amnesia, c'ho la tessera di amnesia! Che la tessera VIP dell'amnesia, Alba! Costa... 200 euro! Ma io e il PR siamo così, fratelli! L'altra sera mi fa, io da te i soldi non ne voglio! E c'è entrato gratis! No? Ho pagato col banco! 200 euro all'amnesia! Spettacolo, Alba! Entro all'amnesia l'altra sera, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo! Qual è? Quello che fa... Eeeh! 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 Non è DJ Mogol, era... Così, Alba, mentre c'era sto pezzo di DJ Mogol... Non... Eeeh! Sono andato dritto sotto il cubo della cubista! Si! L'ho puntata, spettacolo! Come fai? Sguardo sensuale! Che? E l'ho fatto... Eeeh! 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 Ci vuole il cervello! Eeeh! 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 Alba! Comunque, Alba! Sì, Alba! Seratone, oh! C'era anche One Night! A One Night ce l'ha spiegato la settimana scorsa e la sua ragazza... Si chiama One Night perché gli ha data una sera sola, quindi... No, scherzavo, Alba! Scherzavi? Non l'ho mai data! Eeeh! Eeeh! Comunque, comunque, a un certo punto entro, c'era One Night, no? C'era One Night? Ho fatto le foto, spettacolo! A chi hai fatto le foto? Ah, la serata! Ah, la serata, la serata! Eeeh! Stai ferma! No, non muoverti, serata! Eeeh! Che è? Disastro, Alba, disastro! C'è rotto? Cinque chiamate senza risposta! Che disastro, eh! Non è un disastro! Scusa un attimo, fratello! Ti stimo nel frattempo, eh! Sì, va bene! Nel frattempo! Sì, eravamo partiti benissimo! Ma chi è sta qua, fratello? Che non so! Chi è? Casamia! Non l'ho conosciuta sta tipa! Casamia! Ma come si fa a chiamare una figlia Casamia? Sì, sono fuori, casamia, ma come la facci, casamia, casamia, ma la dente è fuori. Casamia, sarà casa mia. No, la conosci? Ma fratello me ne conosci tutte, ma te devi stare a casa e fai troppi danni in giro, fratello. Oh, idea, la chiamo così te la faccio salutare, vai fratello, vai, squilla, squilla, casamia. Oh, schifo, pronto, casamia, ha un bacio alla voce quella di mia mamma, fratello, casamia, sai con chi sono? Con DJ Albertino, fratello, dici qualcosa, condoglianze signora, ha spaccato DJ condoglianze, fratello, non è DJ condoglianze, fratello, ok, fratello, ok, ciao, 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 alba, presa, ma ha detto di andare a casa sua stasera. E di non far tardi. E di non far tardi, che non è un albergo, vabbè. Se neanche dove abita sta qua, la gente è fuori. Io qualche dia ce la... Comunque, alfatare... No, ma chi è sto qua, oh, ma è tutto il giorno che mi chiama sto papacell? No, è il PR del plastic, mi dovevo mettere in lista, disastro. Papacell è tuo papà. No, mio papà fa il PR del plastic, spettacolo, insieme! E siamo noi, lui è Giovanni Verna! E siamo noi! E siamo noi! E siamo noi! E siamo noi! E siamo noi!